Nome Pierluigi Tommaso Cognome Sacco Montaneri Età 48 41 Studi Maturità scientifica a Pescara e poi laurea in discipline economiche e sociali a Milano, dottorato di ricerca in economia Fiesole. Studi classici e poi laurea in lettere moderne alla normale di Pisa in storia dell'arte. Altre esperienze formative? Non formalizzate. Avere una moglie ingegnere. Ultimo libro che ha letto? L'ultimo libro che ho riletto, perché lo rileggo spesso, è 2666 di Roberto Bolagna. Idea di nazione di Chabot. Ultimo libro che ha scritto? Italia Reloaded con Cristian Caliandro, Il mulino. La madre dei Caravaggio è sempre incinta, peschirà. Tempo libero cosa fa? Avercelo. Leggo. Ideologia politica? Esistono ancora le ideologie? Non saprei. Catto comunista. Cosa voterà alle prossime elezioni? Credo che voterò per il centro-sinistra. Partito Democratico, se Matteo Renzi non vince le primarie. Mercato. La religione del nostro tempo. Il mercato è un'istituzione che regola la produzione e la circolazione dei beni attraverso lo scambio oneroso, quindi comprando e vendendo. Cultura. L'eresia del nostro tempo. La cultura è la sfera fondamentale dell'esperienza umana che ha a che fare con la produzione del significato. Industria culturale. Una bella scommessa. L'industria culturale è quella parte della produzione culturale che si basa su tecnologie che rendono i contenuti riproducibili e quindi permettono la creazione di mercati di massa. Cultura indipendente? La cultura è indipendente, se è indipendente non è cultura. La cultura indipendente è quella che non ha bisogno di fare riferimento per essere messa in condizione di produrre a strutture pubbliche o private che ne condizionino le strategie di produzione di senso. Marketing culturale. Una bestemmia. Il marketing culturale è un modo di creare dei pubblici per la cultura costruendo delle strutture di offerta, dei menu di offerta che trovino una loro domanda. Sostenibilità finanziaria? E' necessaria. La sostenibilità finanziaria è la capacità di far sì che un progetto rimanga operativo a lungo termine considerandone i vincoli economici. Spending review. Bisogna farla bene, non come l'ha fatto il governo Monti. La spending review è un modo di razionalizzare la spesa pubblica andando a valutare se ci sono, e molto spesso ci sono, le aree di inefficienza e possibilmente riducendole. Nel marzo di quest'anno siete stati, lei e Montanari, per certi aspetti antagonisti. Il Sole 24 Ore ha pubblicato il manifesto Non c'è sviluppo senza cultura. Ci può spiegare i punti salienti e le radici di quel documento? Quel documento in realtà non è un documento che mi può essere attribuito. Io scrivo per il Sole 24 Ore, l'ho sottoscritto, ma è in realtà il frutto di un'opera di riflessione collettiva che ha coinvolto parecchie persone che lavorano e che collaborano al supplemento domenicale del Sole 24 Ore. I contenuti sono essenzialmente, e secondo me vanno valutati soprattutto per il loro aspetto propositivo e non tanto, diciamo così, insistendo troppo, secondo me, in questa fase sulla concezione del rapporto tra economia e cultura come una posizione filosofica importante. Questi contenuti, dicevo, cercano di creare una molta maggiore attenzione per il ruolo che la cultura può avere nei processi di sviluppo economico locale e nazionale in questo momento evidenziando le tante situazioni in le quali oggettivamente la cultura riesce a produrre valore e quindi riorientando possibilmente le politiche pubbliche verso una molto maggiore attenzione verso questo tema e quindi verso una molto maggiore considerazione del tema della cultura nell'agenda della politica economica. Professor Montanari, pochi giorni dopo l'uscita di quel manifesto, lei ha pubblicato su Saturno Inserto Culturale del Fatto Quotidiano che, a proposito di investimenti in cultura, ha chiuso qualche tempo fa un articolo intitolato Il Dubbio Manifesto. Cosa non la convinceva dell'approccio del manifesto del Sole 24 Ore? Non mi convinceva la riduzione della cultura alla sua convenienza economica. Sarebbe come dire che ci si deve sposare anche per condividere il costo delle bollette. È una buona cosa condividere il costo delle bollette, ma non metterei queste due cose in un rapporto diretto. E invece quel manifesto lo faceva, cioè sottoponeva la cultura alla convenienza economica. È una vecchia idea, è l'idea della cultura come Petrolo d'Italia, che ha fatto infiniti danni e continua a farne. Lei dice, strumentalizzata dal potere politico e religioso, banalizzata dai media e sfruttata dall'università, la storia dell'arte è ormai una escort di lusso della vita culturale. Che ne pensa di questa sua affermazione che ho ripreso, che abbiamo ripreso? Penso che purtroppo la cronaca di ogni giorno ce ne dà conferma. In questi giorni a Firenze, per esempio, si celebra Florence, la Biennale dei beni culturali. Proprio Matteo Renzi, sindaco di Firenze, inaugurandola, ha detto così. Gli uffizi sono una macchina da soldi se riusciamo a gestirli bene. Sono testuali parole di qualcuno che si candida alla guida dell'Italia. Gli uffizi sono una macchina da soldi. Questa idea di ridurre la cultura non a qualcosa che produce cittadinanza, democrazia, ma denaro, naturalmente per dei privati, socializzando le perdite e privatizzando gli utili, è davvero la fine della storia dell'arte nella sua dimensione umanistica. Lei cosa pensa di questa affermazione? Penso che la questione che denuncia Montanari sia assolutamente vera e che quindi nella sua argomentazione ci sia un fondo sostanziale di verità, più che un fondo. Il punto è proprio questo. Non c'è nessuna ragione per la quale un modello intelligente di sviluppo economico a base culturale debba strumentalizzare la cultura. Anzi, se vogliamo, è vero il contrario. La dimensione strumentale della cultura è il modo migliore per distruggere la sostenibilità sociale, neanche a lungo termine, ma già a breve e medio termine. Perché nel momento in cui io dico che la cultura è importante perché produce valore economico, sto implicitamente dicendo che la cultura che non è in grado di produrre ipso facto valore economico non è importante. Questo non soltanto non è vero, ma finisce anche per pregiudicare il potenziale di produzione di valore economico della cultura che può effettivamente produrlo. Lo scrittore Bruce Sterling ha ipotizzato scenari in cui la scarsità non sarà più un problema, riferendosi soprattutto alla cultura e all'innovazione. Secondo lui i concerti sono i nuovi contratti di registrazione, gli eventi sono i nuovi giornali e il crowdsourcing lo strumento che ridistribuisce beni e servizi. Che fiducia ha nelle folle, nelle crowd, che potrebbero sostenere la cultura e l'innovazione culturale e appunto in queste modalità di raccolta fondi attraverso il crowdsourcing che possono raggiungere anche somme piuttosto consistenti? Saranno mai un'alternativa a un sistema di investimenti e finanziamenti del pubblico o delle imprese private? Non lo so francamente, io non credo molto alle folle, credo ai cittadini, credo che però sia difficile sostituire il ruolo del pubblico. Non mi piace questa retorica che sta prendendo piede anche a sinistra, che dice né con lo Stato né con i privati, che è già un po' troppo da vicino né con le Stato né con le Brigate Rosse. Io credo che lo Stato siamo noi, come diceva Piero Calamandrei, non vedo un'alternativa fra lo Stato e la collettività, la somma dei cittadini. Bisogna che i cittadini riprendano le redini dello Stato e lo mettono al servizio loro, i cittadini stessi. Noi siamo in realtà già entrati in un regime che va oltre l'industria culturale, spesso non ce ne rendiamo conto, ma di fatto le tecnologie di produzione digitale abbinate alla connettività digitale oggi creano delle piattaforme nelle quali si produce, si fa circolare cultura, facendo anche a meno del mercato in determinate condizioni. Quindi in realtà lo scenario che disegna Sterling è di fatto uno scenario già esistente. Non è tanto una questione di fiducia quanto una vera e propria scommessa strategica. Perché questo tipo di modello funzioni veramente, alla lunga sia sostenibile, quello che ora secondo me bisogna fare è investire massicciamente nella costruzione di capacità. Cioè dobbiamo generare di fatto un nuovo sistema nel quale le persone non soltanto partecipano molto di più alle esperienze culturali, ma accumulano molto più competenze per partecipare. Lo Stato è un attore del mercato, chi sono gli attori del mercato culturale e come si fa a garantire la sopravvivenza di un mercato culturale? Allora diciamo che da questo punto di vista ci sono delle grandi differenze tra Europa e il resto del mondo. In Europa storicamente lo Stato ha un ruolo molto importante, ce l'ha nella produzione culturale, ce l'ha da molto prima della rivoluzione tecnologica che ha fatto nascere l'industria culturale e tuttora mantiene un ruolo guida. Naturalmente in questa fase di crisi stiamo assistendo a un progressivo ritrarsi, nel senso che mediamente, non dappertutto non è lo stesso modo, ma ci sono meno risorse per la cultura. In realtà lo Stato da questo punto di vista, soprattutto nel futuro, secondo me deve agire soprattutto da facilitatore. Cioè il ruolo dello Stato come, diciamo così, garante tra virgolette nel senso europeo di quelle forme di produzione culturale che non troverebbero mercato, ma che sono, ciononostante, importantissime perché sono un po' come il laboratorio di ricerca e sviluppo della cultura, cioè anche se non trovano immediatamente una rispondenza di pubblico, sono necessarie per creare l'innovazione culturale che poi produce tutte le altre forme di cultura. Ecco, in questo senso difficilmente questo ruolo dello Stato potrà avvenire meno e in un modo o nell'altro beneficiano di questo anche i paesi più orientati al mercato, come gli Stati Uniti che magari hanno un'industria cinematografica fiorente, molto orientata appunto al botteghino, però quando devono effettivamente lavorare sulle innovazioni concettuali e linguistiche profonde della cinematografia magari guardano il cinema europeo come un laboratorio. Ma al di là di questa funzione che va comunque mantenuta, lo Stato, dicevamo, secondo me deve agire soprattutto come un facilitatore, cioè deve mettere in condizione quelle parti della società che come stiamo dicendo si sta organizzando anche per produrre e far circolare la sua cultura, non necessariamente attraverso il mercato, quindi diciamo fare in modo che queste parti della società siano in condizioni di poter agire e di poter operare nel modo migliore. Questo per esempio significa capire in modo intelligente come sta evolvendo tutto il tema della tutela della proprietà intellettuale, che è un tema tipicamente cruciale per esempio nella fase dell'industria culturale, ma in questa fase nuova delle piattaforme aperte, se preso come dire troppo letteralmente come trasposizione di quanto accadeva nella fase classica dell'industria culturale, rischia per esempio di bloccare molti dei processi creativi più innovativi. Quindi da questo punto di vista lo Stato deve ricavarsi un ruolo più attivo, non necessariamente più protagonista, ma soprattutto più intelligente nel discriminare e nel facilitare appunto quei processi che sono cruciali per la sostenibilità economica e sociale della produzione culturale. La storia recente della cosiddetta valorizzazione in Italia smentisce radicalmente queste affermazioni. La concessione dei cosiddetti servizi aggiuntivi alle società private con fini di lucro è stata una sostanziale rinuncia dello Stato alla sua missione di educazione pubblica. Perché? Perché i musei, il patrimonio culturale, è un'agenzia di formazione, cioè produce conoscenze. E per far questo c'è bisogno che a comunicare con il pubblico, con i cittadini, sia chi fa ricerca che la fa direttamente. La figura del mediatore culturale non funziona in questo caso perché trasmette solo una specie di manuale, di pastone noiosissimo, che non è la vera cultura e lo fa a fini di lucro. Io non credo che si possa appaltare la conoscenza, la comunicazione della ricerca vera a qualcuno che pensa di guadagnare. E non è affatto vero che i privati si servono di persone di qualità in questo senso e lo Stato no. La storia degli ultimi anni dimostra esattamente il contrario in Italia. Una commissione svedese, Swedish Art Grand Committee, ha pubblicato qualche mese fa una ricerca intitolata Gli artisti e le industrie artistiche. In particolare Ingrid Elam, la coordinatrice di questo progetto, nella sua introduzione ha fatto due affermazioni interessanti. Uno, che l'artista ha cambiato ruolo, non lavora più come nel rinascimento in maniera anonima per un committente. Un artista lavorando da solo adesso produce un significativo capitale e diversi posti di lavoro collegati al suo lavoro. Altra affermazione, sempre della Elam, è che il fatto che gli artisti con redditi variabili, però sono dei veri e propri imprenditori adesso. Detto questo, nessuno di loro si definirà mai un uomo d'appari. Come interpreta questa ricerca, queste affermazioni, questa discussione sugli artisti e le cosiddette industrie culturali? Queste affermazioni mi stiamo a tradire un'idea un po' bizzarra del rinascimento. La contrapposizione tra passato e presente può essere istruttiva, ma bisogna sapere esattamente che cosa si paragona. Ghiberti o Donatello, per parlare di due artefici del rinascimento, erano degli imprenditori che davano lavoro a moltissime persone e che non possono essere contrapposti a un'idea moderna di artista. Sono loro che creano una figura di artista moderno che crea anche un utile economico. Il problema, secondo me, è un altro. L'articolo 9 della Costituzione cambia radicalmente la funzione dell'arte, perché si connette con l'articolo 1, la sovranità appartiene al popolo, tutto ciò che prima apparteneva a un committente sovrano, oggi appartiene al popolo ed ha, Costituzione alla mano, un'unica funzione, quella di produrre conoscenza e cultura, non utile. Questo lo dice anche il codice dei beni culturali, benissimo per la valorizzazione, che serve a produrre non denaro, ma conoscenza. La funzione degli artisti oggi e del patrimonio artistico, secondo la nostra Costituzione, non è produrre denaro, ma è produrre cittadinanza. L'artista fa fatica a vedersi come imprenditore e per certi versi ha ragione, perché non fa l'imprenditore, fa l'artista. Ciò non toglie che in alcuni casi una chiusura preconcetta verso tutte le tematiche che comunque hanno a che fare con la dimensione economica del proprio lavoro, possa risultare dannosa. Non è detto che tutti gli artisti siano in grado di fare i manager di se stessi. Dobbiamo capire che gli artisti hanno personalità diverse e che vanno rispettate come tali. Per determinati artisti questa sarebbe una vera sofferenza o addirittura un modo per, come dire, distruggere quel clima psicologico, emotivo, che effettivamente li può rendere davvero creativi. Per altri magari qualcosa di stimolante, che addirittura le aiuti a far meglio il loro lavoro. Il problema non è tanto che l'artista debba per forza riassumere tutte queste componenti. Il problema è che esistano delle competenze disponibili che possono aiutare l'artista a tenere conto di questo aspetto in un mondo nel quale, appunto, in una prospettiva di contributi pubblici sicuramente non crescenti, in molti casi decrescenti, nella media, effettivamente potrebbe trovarsi in difficoltà se non avesse un modo pratico, efficace, di procurarsi le risorse per fare il proprio lavoro. Ultima domanda. Cosa pensa lei della cosiddetta new share economy applicata all'ambito culturale? Intendiamo forme di scambio, riuso, relazioni pari a pari, baratto, prestito? Diciamo che appunto quelle che abbiamo elencato, il baratto, il prestito, le relazioni pari a pari, sono delle forme, come dire, arcaiche che non significa che siano superate. In realtà quello che stiamo vedendo, come dicevo, è che con queste piattaforme aperte si stanno sviluppando delle forme di scambio, non di mercato, sempre più interessanti, sempre più complesse e sempre più creative. Quindi quello che ne penso io è che queste siano un pezzo importante del futuro. Il futuro è uno scenario nel quale parte della produzione culturale circola attraverso i meccanismi dell'industria culturale, quindi del mercato, ma una parte altrettanto, se non più importante, circola attraverso meccanismi altri che non passano attraverso il mercato, che passano attraverso forme di condivisione di scambio simbolico molto complesse, che possono anche presumere delle componenti di economia del dono che portano, per esempio, i fruitori di determinati contenuti a dare in cambio, per esempio, delle risorse economiche, semplicemente perché questo fa parte, come tipicamente accade in certe strutture di dono di reciprocità, di un vero e proprio processo di scambio simbolico. Quindi io credo che nel futuro gli artisti non hanno per forza bisogno di fare riferimento al mercato per vivere, però allo stesso tempo come evolveranno effettivamente queste forme? È difficile dirlo oggi perché il processo è appena cominciato e io credo che nei prossimi anni ci farà vedere molte novità interessanti. Penso che ci sia un po' troppo volontarismo nel pensare che queste cose sostituiscano immediatamente o anche immediatamente il mercato culturale come lo conosciamo oggi. Non so se il futuro sarà lì. Io credo di più a uno scambio fra pari. Fra pari come è stato per secoli nelle nostre città. Credo molto a un incontro di cittadini, non di fornitori e di clienti.